questo qua un per cento speriamo di finirlo in fretta allora se non c'è e dai lasci e faxina non c'è bene proviamocire un'altra volta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non facciamo il pirla come prima Checkpoint Ora c'è quello già Quello verde di prima Vediamo di fare cose giuste Um... No non lo posso uccidere altrimenti cade giù Deve camminare per forza Capita la sequenza Non sapeva resti fare Bisognava capire la... Solo... La sequenza E ora l'ultimo dobro Oh... 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 come lo prendo quello lì c'è una meccanica che non conosco mi sa Alex c'è una meccanica che non conosco la tartaruga passa attraverso la ciambella come non ci ho fatto a pensare scusa sta canzone così bella mi fa venire voglia di giocare super mare 64 che devo farlo mi sto confondendo mi sto confondendo confusionalissimo mi sto confondendo 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 nuvoletta ecco peccato mi sto confondendo mi sto confondendo mi sto confondendo mi sto confondendo